Buongiorno a tutti e benvenuti per la serie di interviste per il decennale di sinestesia. Oggi abbiamo come tema la sostenibilità e con noi un ospite che è, posso dire, poliedrico. È stato un giornalista d'inchiesta che ha vinto il premio Ilaria Alpi nel 2012 per una coraggiosa inchiesta sul traffico internazionale dei rifiuti, ma è anche un narratore, è anche un conduttore radiofonico, scrittore. È con noi Emilio Casalini. Benvenuto Emilio e grazie per essere con noi. Ciao, buongiorno a tutti. Davvero un piacere. Ciao. Bene, dunque, io prima ti ho introdotto con una serie di ruoli e di cose che hai fatto, di attività, e ti ho definito anche poliedrico, perché ti occupi di tante cose, ti sei occupato di tante cose, tutte con un filo conduttore comunque legato alla bellezza. Oggi di cosa ti occupi? Quali sono le cose che ti muovono in questo momento? È una declinazione continua e credo che sia proprio anche poi il segno dei tempi, no? Una volta avevamo lavori molto fissi, per cui eravamo preparati da fin da piccoli e poi li portavamo avanti fino alla fine. Oggi non solo siamo nell'epoca della singularity e tutto cambia velocemente. Ma anche, non so, noi stessi, io parlo per me, io continuo a cambiare, evolvermi molto velocemente, assecondando anche quello che succede intorno a me. Mi occupo di valorizzazione della bellezza e strumenti di narrazione dell'identità, fondamentalmente, e questo si declina in varie misure. Da una parte sono consulenze per i territori, per dire come si può raccontare meglio l'identità, perché quando hai qualcosa che ha valore, prima devi conoscerlo e serve raccontarlo a chi ci vive e poi quando l'hai raccontato offrirlo anche agli altri. E anche questa è narrazione, è un racconto di quello che sei e del valore che ha. E serve per creare un valore aggiunto, magari anche lavoro, benessere. Quindi questo è un ruolo. Un altro ruolo è, mi sto occupando moltissimo di una cooperativa di comunità a Sciacca, in Sicilia, in provincia dell'Agrigento, dove sono il direttore creativo di un progetto che si chiama Museo Diffuso dei Cinque Sensi, in cui la cosa è semplicemente che un territorio, una cittadina di 40.000 abitanti, con un centro storico molto carino ma poco valorizzato, così come tutte le sue risorse, decide insieme di raccontarsi e di organizzarsi per accogliere un turismo di qualità, che sia come cittadini temporali, come amici, come persone, che vogliono scoprire con cui condividere la propria identità. E questo è un progetto molto grosso, che sta crescendo, aspettiamo di partire adesso a breve. Mi occupo di un programma televisivo, che è andato in onda 2019 con 5 puntate, che si chiama Generazione Bellezza su Rai3. Sono andate molto bene, poi siamo bloccati per il Covid, però adesso riprenderemo a girare, andremo in onda a dicembre con quasi un mese intero di puntate. E poi l'ultima cosa un po' particolare è che al 20 di maggio adesso partecipo, apre la Biennale di Venezia di Architettura e partecipo come espositore con una installazione che parla dell'economia e della bellezza, dove in realtà tutto quello che ho detto in realtà è tutto connesso. Wow, quante cose! Beh, effettivamente sì, è tutto connesso, il filo conduttore è molto è molto chiaro la bellezza e la sostenibilità anche, legata a questo progetto turistico di cui ci stavi parlando. Ecco, perché è così importante raccontare la bellezza? Mi viene in mente la frase di Peppino Impastato, che diceva se insegnassimo alla gente la bellezza gli daremmo un antidoto all'omertà, alla depressione, a tutta una serie di situazioni e cose negative, che si trovano ad affrontare. Quindi perché è importante raccontare la bellezza e poi si può insegnare e come si può insegnare la bellezza alle persone? Allora, la frase che tu giustamente citi di Peppino Impastato porta a un tema che è quello della consapevolezza ed è il tema per cui non riuscirei mai a convincere qualcuno davvero alla sostenibilità finché non ne capisci il valore. Cioè tu puoi imporgli quello che vuoi, ma finché non lo capisci, lui il sacchetto della spazzatura lo butta fuori, quando vede che lo butta fuori, non gliene frega niente. Finché non c'è uno switch mentale, è inutile, cioè è proprio, sì, si fa qualcosa, ma è faticosissimo imporlo con la forza, con le multe, con le sanzioni, eccetera, eccetera, obblighi. Tutto diventa diverso quando capisci, capisci il valore delle cose. Allora, la bellezza è una specie di paradigma in cui metti insieme tutto, è un modo di essere belli non esteticamente, ma belli dentro, è un modo di migliorare il nostro sistema di vita, è un modo di considerare tutto quello che ci circonda, dall'ambiente alle risorse, nel patrimonio materiale e immateriale, come un valore. Cioè nel momento in cui capisci, riesci a capire il valore di questo, poi aumenti la consapevolezza, la consapevolezza, la consapevolezza ti porta all'azione e quindi tu stesso diventi un valore. Ed ecco perché è così importante la narrazione della bellezza, secondo me, perché ti fa rendere, allora, un esempio pratico è quando tu vai all'estero e tutti, ma tutti diciamo, ma guarda questi che non hanno niente, cosa hanno combinato, che bravi che sono a raccontare, pensa a noi, no? Una frase classica, pensa a noi cosa potremmo fare. Ok, e perché non lo diciamo spesso? Quando sono nato, no? E poi, sì, ma la domanda è perché non lo facciamo, se lo diciamo sempre? Allora, ecco dove il mio ruolo oggi è questo, è dire, rispondiamo alla domanda perché non lo facciamo. Uno, perché siamo viziati, due, perché siamo un popolo abbastanza... è troppo facile, no? Siamo circondati dalla bellezza e quindi va da sola, non dobbiamo sforzarci. È come se tu vivi a fianco a un albero che ti dà dei frutti buonissimi, prendi la mano, te li mangi, cioè perché devi sbatterti a cercare di fare qualcosa? Noi più o meno siamo sulla stessa linea, no? Per cui andiamo per inerzia. E invece oggi non basta più questo. E quindi ecco dove la narrazione della bellezza in realtà è la presa di consapevolezza del valore di quello che siamo, sia del patrimonio materiale e immateriale creato dall'uomo, sia del patrimonio naturale, intendo qualsiasi cosa a livello che non abbiamo fatto noi, sia come quarto sapere quello che siamo noi stessi, cioè i nostri talenti e le nostre cose. Ecco, mettere insieme questi quattro saperi, trasformarli in azione è un po', ecco, la realizzazione della bellezza secondo me. Quindi la bellezza va raccontata, giustamente va narrata, va fatta vedere, perché ancora più che, diciamo, che mostrare magari quelli che possono essere i momenti in cui questa bellezza rischia di essere rovinata, oppure denunciare delle situazioni di pericolo, ma che la minacciano. Sì, sicuramente denunciarle, però anche proprio far vedere, far innamorare le persone di questa bellezza, no? Quindi fare in modo che poi vogliano intanto preservarla e poi anche valorizzarla, quindi. Adesso nel mio programma nuovo mi piace raccontare quelli che fanno, perché stiamo tutti lì a dire bisogna fare questo, bisogna fare questo, poi però a muovere il culo sono pochi. E allora, invece... Sempre gli stessi, in genere. Sì, ma è invece un peccato, perché oggi è l'epoca in cui puoi realizzare anche dei sogni, magari c'hai una vita con un lavoro un po' sfigato. Non è detto che per forza tutti bisogna fare qualcosa di eccezionale, ma uno può trovare grandissima soddisfazione anche in cose piccole, che in realtà poi piccole non lo sono se coinvolgono un percorso in cui sei protagonista. Quindi, non lo so, è un'epoca straordinaria intanto perché utile e etico non sono più in contrapposizione. Cioè di solito per secoli o facevi soldi o facevi del bene, no? Le due cose raramente andavano proprio bene bene insieme. Oggi invece sono passati tantissimi progetti, tantissima è cresciuta la consapevolezza delle aziende, si fa parte sempre di più di una connessione globale. Devi ragionare in termini di comunità. Questo è eccezionale. Quindi tu ti senti connesso con gli altri e inizi a lavorare. Allora, quello che stiamo facendo a Sciacca è qualcosa di concreto. Cioè non è un modo di parlare. Abbiamo, siamo centinaia di persone connesse e stanno incominciando a lavorare operativamente. Faccio un esempio. Allora, siamo un territorio che ragiona per turismo. Il turismo è una straordinaria opportunità a livello aziendale perché, come impresa, perché protegge il territorio, deve preservarlo il meglio possibile e è molto diffuso, è un'economia diffusa. È un'economia tendenzialmente antimafia, per esempio, no? Che contro le organizzazioni criminali collettive perché è proprio capillare, è difficile da controllare, è piena di iniziativa veloce, i soldi che arrivano vengono subito ridistribuiti. Quindi è di sua natura anti-camorra, anti-mafia, anti-andrangheta escluso quando magari al nord stanno già organizzandosi anche sul turismo. Ma quella è un'altra roba. Però, e poi è nuova, coinvolge tutti. In questo periodo di pandemia, per esempio, dove tutti, adesso abbiamo detto parliamo, adesso si... Cioè, dopo le pandemie, pandemia ha acceso la luce su un tessuto che faceva pena. Cioè, abbiamo la coperta con tutti i buchi. I borghi, sì, è vero, i borghi sono il futuro, ma se non impari a strutturali, non c'è una comunicazione, non c'è una relazione, non c'è accoglienza, non c'è una struttura e dove vai? Allora, noi su Sciacca stiamo lavorando con un centro storico che è molto bello, considerato come un museo a cielo aperto. Attenzione, Sciacca, centro storico, bellino, molto carino, molto bello, e fuori quel montagna di cemento che è classica di tutte le nostre città, no? Le nostre... Abbiamo 40.000 abitanti, quindi una media cittadina. Non è il borghetto fighetto della Toscana che è perfetto, no? No, no, questa è una città normale italiana con un centro storico stupendo e tutto il cemento intorno. Ma non è un problema, basta organizzarsi. E lì abbiamo raccolto i ceramisti che offrono turismo esperienziale, i corallari che offrono turismo esperienziale, cioè, esperienziale, vieni con noi e fai il tuo giorello, in realtà imparando la magia del corallo, del perché quel corallo di Sciacca è sostenibile, perché è fossile. Così metti le manine nel fare la ceramica e così. Così come le strutture ricettive sono in gruppo, per la prima volta ragionano tutti, ci si mette insieme. Così i ristoratori raccontano il territorio e raccontano i contadini. La piattaforma, eccetera, vendiamo magari le arance che tu hai provato a colazione, te le mandiamo a Londra per tutto l'anno, cioè finché c'è la stagione. È coesione di tutto insieme. E questo, anche in periodi di crisi, di Covid, eccetera, ti fa sentire una comunità che comunque è coesa e non è male come percorso. Quindi, per rispondere alla tua domanda, che è la bellezza, è la nostra identità, è tutto quello che siamo noi. e abbiamo il dovere di proteggerlo, ma facendolo diventare qualcosa di concreto. Ecco che per me il concetto di comunità in questo momento è estremamente moderno, lontano da qualsiasi altro stereotipo del passato, ed è cooperazione, è gestione della complessità, in realtà. Perché hai tanti soggetti diversi, e quindi oggi l'impresa sociale è gestione della complessità. Noi abbiamo fatto un percorso in quattro fasi sulla comunità. I singoli prendono consapevolezza di quello che hanno e come collettività poi messi insieme l'acquisto come consapevolezza di comunità. Poi hai una forma di empowerment per cui riesci a capire cosa fare, ti diamo gli strumenti, devi avere gli strumenti. Il percorso non è top down, ma neanche bottom up. È bottom, 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 bottom. Cioè up è quando tu ti alzi in piedi da solo, non è che restituisci a qualcun altro. È un peer-to-peer, tra pari, insomma. Ti organizzi e prendi gli strumenti, ovviamente ricevi competenza per organizzare. Cioè all'artigiano che non ha mai fatto il turismo esperienziale, gli devi spiegare come deve fare, perché non è che se lo inventa un giorno o l'altro. Allora, questa è la comunità che accoglie. E quindi per otto prende gli strumenti giusti. Poi c'è un engagement perché ti connetti agli altri e ti offri al mondo e poi ti impari a gestire tutto questo. Quindi la sostenibilità in tutto questo dov'è che rientra? Intanto rientra una sostenibilità ambientale perché il discorso dei dispenser dentro le strutture ricettive, per cui non ci sono più le saponette, ma pian piano, insomma, oggi non è che abbiamo in un giorno quello che c'era 10.000 acquistate le userà. Però trasformiamo tutte le saponette in dispenser con sapone liquido. Ma i dispenser sono fatti dal ceramista di Sciacca, secondo un modello disegnato dalla struttura ricettiva. Il sapone è fatto in Sicilia con prodotti naturali che valorizzano i sapori della Sicilia. E quindi tu hai che con un QR code, inquadrando il dispenser, tu puoi acquistartelo perché avremo il catalogo sulla piattaforma. A maggio sono sei mesi che lavoriamo per una piattaforma che è un marketplace, ma anche di identità. Cioè è un luogo dove tutta la comunità offre se stessa e si racconta. Quindi tu con un QR code, quando sei dentro, ti compri il dispenser, ma se vuoi ti puoi prenotare anche l'esperienza al pomeriggio per andare a disegnartelo tu, il dispenser tuo. Oppure il sapone, puoi fare il sapone con le tue mani, il tuo prodotto, e puoi riceverlo per tutto l'anno e così. Quindi hai creato connessioni in realtà sociali tra l'artigiano e la struttura ricettiva. Quindi hai creato un nuovo intreccio di comunità. E la sostenibilità ci rende, intanto diventa, a parte togliamo l'acqua, le bottiglie di plastica, eccetera, però la sostenibilità in realtà non è solo quanto risparmiamo di sapone o di imballaggi, che comunque è importante. È il percorso che facciamo che è fondamentale. Certo. Cioè iniziamo a capire che ci guadagniamo. Allora, perché da quando sono nato, come diciamo prima, sento dire potremmo vivere della nostra bellezza, ma poi questo succede che è minima parte. Allora, siccome vi faccio inchieste, io voglio capire perché, che è una roba immensa, cioè è sociopedagogica, è economica, eccetera. Allora, ho fatto quel libretto, rifondata sulla bellezza, dove in realtà era ogni elemento, dopo quattro anni di studio, era analizzato per capire cosa non funziona, la narrazione, i cartelli stradali sbagliati, i musei che hanno delle narrazioni da psicopatici, cioè tu hai parole che non capisci, hai etichette microscopiche, ma se sei il paese con la più grande concentrazione di patrimonio del mondo, cioè vorrai lavorare su questo, ecco la narrazione, no? Secondo te, quindi, i danni del passato, quello che ci troviamo oggi, sono rimediabili, no? Come sei ottimista da questo punto di vista? Cioè vedi, prima dicevi appunto, stanno cambiando delle cose nei musei, cominciano a essere ad esempio messe in gioco temi come la gamification, il videogioco o le logiche di gioco che non sono necessariamente un videogioco, ma sono l'applicazione di quelle logiche, che poi ci portano a interessarci di qualcosa, a appassionarci, eccetera. Quindi come vedi la possibilità effettivamente di uscire da questo circolo vizioso in cui è stata l'Italia fino ad oggi e cominciare davvero a vivere della nostra bellezza? Noi abbiamo un'autostrada, abbiamo una discesa pazzesca per... qui non è per culo, proprio per quello che hanno fatto i nostri antenati e quello che si è creato nel nostro paese. Non è merito nostro, però abbiamo... perché abbiamo una biodiversità culturale che è unica, è unica. Questa non è quella dell'autoesaltazione che noi siamo i migliori... Non ce ne rendiamo spesso conto, forse. Non ce ne rendiamo spesso conto, forse ce ne accorgiamo un po' quando andiamo fuori a visitare altri paesi, però normalmente non ci non capiamo. Però in realtà ce l'abbiamo davvero, anche fuori dalla demagogia, ogni tanto abbiamo il 75% del patrimonio artistico, no, no, non abbiamo il 75%, abbiamo 51 siti, 51-52 come la Cina. Ok, è fantastico, però siamo, ecco, comparati al mondo, abbiamo una concentrazione straordinaria. Però la cosa incredibile è che, allora, cioè nel momento in cui iniziamo a trasformarla in valorizzazione, tu citavi il gaming. Il gaming cos'è? È la differenza... Lo imparate benissimo da Fabio Viola, no, che ha fatto quel fantastico gioco Father and Son. Allora lui dice, nel video game, nel film, tu sei spettatore. Nel video game, sei tu l'attore protagonista, no? Quindi non c'è più uno storytelling, ma c'è uno story doing. Sei tu che agisci. Allora, la tua interpretazione di un luogo è nuova. E come dicevi giustamente, non è solo il gaming, è proprio l'approccio gaming. Devo coinvolgerti. Guarda cosa ha fatto il direttore Schmidt degli Uffizi. È successo il pandemonio per Chiara Ferraghi. Ma in realtà, porca miseria, ma il problema è che la gente si è sconvolta. Quando è uscita la pandemia, sono usciti dopo un paio di mesi dei siti, dei musei, orgogliosi, perché avevano messo online la visita virtuale. Ma porca miseria, ma nel 2020 tu lo metti e ti vanti pure. Ma dovresti nasconderti se l'hai fatto per dieci anni. Ma cosa ti vanti? Cioè, è uscita l'anno scorso internet. Cioè, paradossalmente, è stata una botta gigantesca che ha fatto saltare una quantità di calcificazioni di questa gente incrostata nel vecchiume mentale che ci fa un bene dell'anima. Quindi, uno, nuovi linguaggi. Assolutamente sì. Io sono una straottimista perché quella biodiversità culturale, oltre che enogastronomica, del cibo, della neogastronomia e della lingua, del patrimonio, di questa identità diffusa in una maniera incredibile. Cioè, tra i paesini, uno a fianco all'altro, noi abbiamo soprattutto vissuto delle rivalità, ma nemmeno nel momento in cui si capisce il valore della coesione hai la diversità, la biodiversità, no? E quindi ogni posto hai qualcosa di nuovo. Quando tu attivi tutti, ti vengono fuori delle cose che sono completamente unpredictable. Perché non le puoi nemmeno concepire. Ti faccio un esempio. Abbiamo attivato le esperienze. Abbiamo attivato anche un'accessibilità. E quindi abbiamo fatto un colloquio, ci siamo incontrati con Stefano Turturici, che è il responsabile dei non eccechi di Sciacca ed è non vedente. Ah, siamo lì che chiacchieriamo completamente, proprio non ci vede niente. Allora dice, vabbè Emilio, ma tu sai guidare la barca? Dico, no. Dai, domani ti insegno. E tu lo guardi a te, dai. Sei cieco. Dai. No, no, se vuoi domani ti insegno a guidare la barca. Va bene. Mattina arrivo lì, mi mette le bende, completamente quelle da ospedale, così mi benda tre volte, quindi ero proprio completamente accecato. e di colpo ti devi attaccare, intanto entri in una dimensione fantastica, ma in realtà lui usa questa tecnica per farti scoprire i tuoi sensi di nuovo. Allora, incominci a camminare, scopri il perimetro della barca, ti arrivi lì e poi esci dal porto col marinaio, ma in realtà appena usciti dal porto Stefano guida e lui come fa a guidare e te lo insegna. Dice, si ferma e dice, Emilio, ok, adesso decidi, portaci verso sud-ovest e dico, io come faccio? Non so, ascolta, dov'è il sole? E caspita, è vero, lo sento il sole. Sai come va il sole, no? Che va da... Certo, certo. Il movimento che fa. Sono le dieci, puoi intuire dov'è. Certo, e il vento? È vero, lo sento il vento. E le voci? È vero, il porto lo sento. Prima, un attimo prima, non lo sentivo. Sento lontananza alle voci del porto. Hai tutti gli elementi per orientare. Adesso guidaci. E oggi noi abbiamo, tra le nostre esperienze, siamo partiti da zero e adesso abbiamo oltre 54 esperienze che offriamo ai turisti, tra cui la Blind Sailing Experience, in cui in realtà ti insegna a guidare, ma in realtà ti insegna a usare i superpoteri, no? Quindi il superudito, la supersensibilità, i cinque sensi potenziati al massimo. Perché? Perché in realtà ci sembra una cosa figata e poi troveremo adesso con il linguaggio delle mani per non solo... Ma non è che solo i non udenti verranno. Te l'hai detto, chiudiamo pure tu le orecchie e probabilmente con il linguaggio delle mani saremo talmente bravi che anche gli stranieri lo possano capire. C'è anche un gioco, ci stiamo cominciando a divertire un sacco sta roba. Bellissimo, davvero complimenti. Bello. Beh, invece senti, prima parlavamo anche appunto degli strumenti digitali, di quelle che sono le nuove, tra virgolette, nuove tecnologie perché insomma sono in giro già da un po', come ben sappiamo, ma che sono però comunque in costante evoluzione, quindi ogni anno, ogni mese nasce qualche cosa di nuovo. Queste tecnologie che poi sono quelle che noi come Sinestesia dominiamo e seguiamo e su cui costruiamo il nostro lavoro tutti i giorni, come contribuiscono anche al contribuiscono anche al supporto per esempio della sostenibilità, ci sono, vedi delle opportunità in questo, in questo senso, come, cosa ne pensi e anche poi come possono effettivamente anche guidare come, parlando per esempio dei videogiochi della gamification, no, aiutare a emozionare, no, a trasmettere dei, un messaggio, no, aiutare anche nello storytelling di quello di cui parliamo, no, bellezza e sostenibilità. Allora, innanzitutto penso che, guarda, noi ci siamo, parliamo dalla, da sciacca, no, noi cosa facciamo in realtà? Tutti fanno molte piattaforme dove dopo ripetono i contenuti, i, non so, i posti più belli, non solo i borghi, ma anche, non so, le case di un charme, i vini, eccetera, tutto giusto, molto giusto. Si fa il contenitore e poi si cercano i contenuti e intanto pochi si preoccupano di, da dove, di formare contenuti nuovi magari. e questo è il mio problema. E secondo poi, cioè, allora, una distanza tra territorio, tra, quindi realtà e obiettivo. In effetto, alcune experience, alcune app vanno benissimo, però, noi abbiamo fatto una scelta opposta e la nostra piattaforma è costruita sui nostri bisogni. quindi, quindi in realtà, noi siamo completamente equodistanti tra le piattaforme e ma non siamo neanche concorrenziali con le OTA, no, con le Booking, B&B, siamo interstiziali perché noi raccontiamo tutto il nostro territorio, tutto a valore e gli diamo uno strumento per uscire nel mondo. Quindi, in realtà, stiamo connettendo le persone attraverso lo strumento digitale. Perché è importante questo? perché anche lì, no, è bottom, 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 up. Cioè, siamo noi che usciamo, non è qualcuno che ci prende da sopra. E questo ha una potenzialità abbastanza rovescio rispetto al percorso classico, no? Ma questo percorso, questo è il nostro percorso ha una potenzialità devastante, cioè, è incalcolabile. Nessuna Booking, nessuna, neanche la più grande corporazione del pianeta può avere le risorse per attivare tutto un territorio. Cioè, è impossibile. Il territorio che si attiva, invece, connettendosi, sì, questo sì. Allora, immagina la quantità, ecco, ho fatto l'esempio del non vedente che diventa questo, ma pensa sul cibo. Noi abbiamo tutte le strutture ricettive che usano cibo locale e quindi te lo fanno provare. Sono dei tester. Allora, tu senti l'arancia che te la spremi, anche per questo non riesco a capire, arrivi giù in tanti posti dell'Italia, del sud, soprattutto, e ti danno il succo d'arancia chimico. Ma dammi un'arancia che me la spremo io, non è che costa più un'arancia. Perché poi l'arancia che mi sto spremuto con le mie mani, ne ho sentito l'odore, poi ti dico, dov'è che vedi tu? Sotto i soborghi di Londra. Mmm, bella vita. Alla sesta giornata di pioggia, una bella cassettina d'arance, che dici? Ti tira sul morale, no? E via di seguire con tutti i nostri cibi. allora c'è una narrazione anche del territorio che diventa connessione e dopo si esprime a livello digitale, perché tu ti prenoti l'arancia, il miele, l'olio, il grano, tutto quello che ti pare a te. Noi ti insegniamo a fare la pasta, ma parti dal contadino, ti insegniamo a fare la cassata, ma tu parti dal pastore, poi vai dal casaro col tuo latte e poi fai la cassata. Quindi, è un percorso di verticalità esperienziale che poi ti prolunghi per tutta la vita. Allora, e chiudo il concetto, nel momento in cui hai tutto il territorio che si valorizza ed è iperconnesso, come fai a tenerlo insieme? Ti servono gli strumenti digitali. Ovviamente, non c'è altro strumento. In realtà, c'è una specie anche di questo, di game, perché comincia a costruirti la tua vacanza, la tua giornata attraverso una pre-experience che noi ti diamo di racconto e lì inizio è una piattaforma gratuite. Abbiamo Easy Travel per i racconti, abbiamo quello per i percorsi, dove comincia a caricare e diventa tutto interattivo. Tra parentesi, noi siamo no profit, quindi, ce ne può fregare di mento, i nostri guadagni vengono redistribuiti sul territorio per dare valore e lavoro in realtà ai nostri ragazzi. Allora, tutto questo va dentro una piattaforma digitale che valorizza. Allora, immagina questo che si realizza ovunque. Allora, anche nei 10 territori intorno a noi, di colpo la stessa cosa non è concorrenziale e che si apri il bacino e hai anche quell'altra che fa il karting, quello che va giù in kayak, quello che c'è un altro tipo di noi abbiamo le arance, quell'altro c'è le mele, che ne so. Aumenta il prodotto, aumenta semplicemente il mercato con la qualità della valorizzazione di quello che abbiamo e la tutela della protezione. ma intorno c'è il mondo. Allora, ecco che il digitale diventa uno strumento anche quello per prendere consapevolezza del valore di quello che hai e per offrirlo al mondo di fuori senza fregarlo e senza farti fregare perché sono le due combinazioni. Ma diventa uno strumento straordinario per cui per noi è fondamentale Certo, fondamentale e di nuovo anche questo uno strumento per la gestione della complessità perché siamo in tanti noi siamo comunque cominciamo a essere tanti persone noi abbiamo 54 protocolli di intesa firmati con associazioni di ogni tipo dalla Croce Rossa a Rotary dagli scout alle associazioni di categoria dei commercianti dei pescatori tutti allora noi mettiamo insieme una quantità di persone su sciacca che è spaventosa ma c'è anche la sovrintendenza dei beni culturali capito che ha firmato il protocollo con noi quindi si collabora insieme allora arrivano dei soldi di un piccolo bando noi attiviamo gli artigiani la sovrintendenza arriva velocemente perché siamo connessi e dice ok cosa facciamo questa scalinata la rifacciamo piena di ceramica fatto ci si mette molto meno e su tutti sono contenti un pezzo di città è migliorato e questo è sostenibilità del territorio l'abbiamo migliorato nella bellezza questo discorso l'esempio che facevi prima di Peppino impastato è quotidiano lui diceva se non riesci a spiegare il valore a farglielo capire a farglielo sentire metteranno sempre le tendine così a bellire un pochino e si illuderanno quando inizi a vederla davvero e vedi una scalinata piena di maioliche di ceramiche fatte dai tuoi artigiani ma sai che bello che è ti ci fai pure tu il selfie davanti anche se è casa tua dove prima non l'avresti mai fatto e il digitale serve per tenere insieme tutti questi pezzetti di comunità abbiamo la competenza e gli approcci di un'azienda e i valori di una famiglia quindi non facciamo i soldi per farli ma dobbiamo avere quel confronto reale per funzionare bene e le due cose oggi si uniscono quindi ecco che la sostenibilità l'intelligenza artificiale no più che le machine learning tutte le nuove tecnologie combaciano con la creatività italiana e con la valorizzazione dell'identità ecco che questo diventa un progetto che ecco sulla sostenibilità e il valore della bellezza credo che abbia molto da dire Emilio io rimarrei delle ore a parlare con te e mi auguro anche di poter a questo punto di poter trovare anche delle modalità di collaborare come Sinestesia con il nostro team ma anche personalmente a questo progetto perché mi hai davvero conquistato devo dirti la verità è veramente con grandissimo piacere una ventata di ottimismo e di aria fresca e io ti faccio un'ultima domanda questo ottimismo proiettiamolo nel futuro vediamo fra dieci anni ci saremo speriamo liberati dal covid ci saremo ci troveremo in un mondo diverso sicuramente da quello che ci ha lasciato che abbiamo lasciato speriamo ovviamente di liberarci ben prima di dieci anni però proviamo a vedere a immaginare il mondo che sarà come vedi come vedi queste evoluzioni di cui abbiamo parlato in un futuro lontano prima hai citato la singularity che ci rende molto difficile guardare nel futuro in questo periodo storico soprattutto però proviamo un po' a giocare a capire Emilio che cosa vede io vedo un'epoca straordinaria perché dove la conoscenza è libera dalla nozionistica e questo è l'altra rivoluzione gigantesca del mondo della scuola completamente ancora inadatto ancora i professori provano a spiegare le nozioni ai ragazzi i ragazzi li sorpassano ma sono molto più svegli dei loro antiquati professori mentre i professori geniali quelli svegli che non hanno paura di autostima affiancano i ragazzi e gli aiutano a dare gli strumenti per gestire la conoscenza che è un'altra roba e quindi camminano al loro fianco ed è meraviglioso e per fortuna ce ne sono anche quelli tanti e quindi io vedo un periodo veramente affascinante dove la conoscenza è uno strumento di valorizzazione di quello che siamo noi come persone e dell'identità cioè è un'epoca in cui ti inventerai continuamente i ruoli cambieranno non è più cercare un lavoro ma capire qual è il ruolo tuo in questo contesto in quella rete incredibile di complessità non è che ci sono da gestire ma anche a trovare il tuo posto giusto noi non funzioniamo perché siamo in tanti imposti sbagliati ora ci stiamo liberando piano piano di tutto questo e ognuno trova il suo posto quindi i prossimi dieci anni serviranno secondo me sempre di più a riassettare il sistema in cui troveremo appunto proprio perché non abbiamo più nessuna certezza sul lavoro futuro ma figurati oggi un ragazzino di 16 anni non sa nemmeno se ci sarà quel tipo di lavoro non un posto neanche quella fattispecie di lavoro che si è oggi molte persone molti ragazzi stanno facendo dei lavori molte persone stanno facendo dei lavori che magari 10-15 anni fa neanche esistevano e quindi questo penso succederà ancora di più nel futuro molto più velocemente ma questa è una grandissima opportunità perché ti permette se non hai riferimenti appunto della singularity non hai riferimenti all'esterno l'unico riferimento giusto sei tu e quindi hai l'obbligo se sei intelligente di guardare a te stesso e di capire quali sono i tuoi sogni oggi è l'epoca in cui essere sognatori è una garanzia di razionalità cioè è proprio il contrario di quello che è passato per sé il sognatore era uno così no al contrario oggi il sognatore ossia quello che sogna di vivere con i propri talenti e si domanda lui cos'è è la persona che ha più possibilità di campare bene e di aiutare anche gli altri quindi io penso che sarà un'epoca ai prossimi decenni anni straordinaria in cui soprattutto perché siamo in Italia dico guarda davvero abbiamo una fortuna che non ce la meritiamo quasi però è incredibile il potenziale che abbiamo di valore anche che non è solo turismo ma è il design dell'economia della bellezza è questo è tutto quello che è connesso a questo concetto di entità e di valore e quindi avremo davanti la connessione io penso a spero in decine centinaia di modelli sciacca che semplicemente è la comunità che si attiva e diventa un corpo coeso competente e consapevole del proprio valore e poi connettendosi come macro come macro aree hai un'offerta che diventa straordinaria di valorizzazione non solo del territorio ma anche di noi quindi io credo che sarà una corsa meravigliosa nel diventare finalmente un cigno grazie Emilio davvero è stato un piacere in bocca al lupo e a presto e grazie a tutti tutti voi che ci avete seguito fin qua grazie a tutti grazie a tutti